Buon pomeriggio a tutti ragazzi! Bene, siamo qui a fare questo piccolo video, tanto per darvi delle piccole comunicazioni di servizio, in quanto appunto per il periodo estivo, principalmente per agosto, non penso che continueremo con la pubblicazione di Ginplotti e degli anime della nostra infanzia, anche perché come noi e anche, cioè immagino voi soprattutto, andiate un po' in vacanza, si spera un po' di respirare in questo periodo abbastanza. buio del coronavirus, a me penso che tutti vogliono un pochettino andare in giro da qualche parte, a mare, e chiaramente sia noi che altri youtuber diminuiranno la pubblicazione di video, anche perché poi fondamentalmente a noi non conviene se siete tutti in vacanza e nessuno ci guarda. Per sostituire un po' i nostri soliti format, pubblicheremo qualche piccolo video di backstage o di altre piccole cose che abbiamo fatto, nel frattempo di poi ritornare tutti quanti dalle vacanze a settembre, poi riprendendo la pubblicazione normalmente. Quindi non vi lasceremo a bocca asciutta, qualcosa che racconterà le nostre vacanze o diciamo delle cose che stanno dietro alle nostre idee, qualcosa ve la facciamo vedere. I format semplicemente verranno ripresi a settembre, tutto qua. Esatto, quando tutto tornerà si spera sempre nella normalità e ognuno ha le proprie case che potrà utilizzare il proprio pc o il telefono. A meno che non vengono in volo e farmi le mie vacanze, in quel caso per farvi un torto pubblicherò tutto quello che è sul mio computer. Perché già l'hanno cancellato il volo. Però sai come siamo sotto questo cielo di covid, 5G, 3G... Mascherine, ordine mondiale, controllo della popolazione, mercurio nei vaccini. Sono mercurio, tutti i metalli che ci sono, tutti i metalli pesanti che ci sono, ne vogliamo parlare. Poi magari se ne parlerà in un'altra sede. Quindi direi buon'estate. Noi ci facciamo sentire, ma per Gimplotti, anima della nostra infanzia, ci rivediamo a settembre. Bye bye! Ciao!